ecco qua i delfini che gioca alla base coi muloni eccolo qua guardalo qua staccato e girano il bravo dopo bravo pipidrillo salta per i muli qua allora il pesce che pesce che si è preso bravo topolone quella che ha fatto nella fine del coronavirus che forti alla base di luna rossa la casa Sì, sì, sì.